Signore e signori, vi abbracciando Samantha, la ballerina che ti manda Ehi, ho visto che stavi per ridere Guarda quel canasino carino che ho Oggi Roby faremo una challenge divertentissima C'è più o meno, Nani, nel senso che l'ultimo che ride vince Siete pronti? Sì, io sono bravissima perché non mi fa ridere niente, nemmeno le battite che fa male Anzi, quello è proprio quello Ehi Beh, lo vedremo, quindi diamo inizio a questa challenge Aspettate, aspettate, quindi da adesso non possiamo più ridere? Eh, no Aspettate, devo scaricarmi un attimo Sono pronto Tre, due, uno, via! E che facciamo? Ha scroffato dopo No, no, aspetta, no, così non riesco Iniziamo a fare qualcosa, mi devo muovere Sì, hai ragione, dobbiamo ridere Ok, io lo dogliela Ninna? Io sono triste Sai qual è il colmo per un idraulico? No Non capirci un tubo! Quasi quasi mi metto a piangere A me Roby, stava facendo ridere però Non posso perdere questa challenge Matti, tu come pensi di vincere questa challenge? Quale strategia utilizzerai? La mia strategia è fare cose senza senso Tipo questa, seguimi Ninna? Ti devo dire, anzi far vedere una cosa Guarda eh Vabbè, devo un attimo riscaldarmi Matti? Sembra più triste di prima in realtà Eh no, in realtà lei sta morendo dalle risate Solo che è molto brava a fingere Perché io faccio ridere tantissimo Guarda Io invece ho una tecnica infallibile contro Ninna Guarda qui, inizierò a fare il solletico Il solletico? Ok Questa challenge sta diventando più assurda del previsto Tutti fanno cose senza senso Guardate Matti cosa sta facendo per farmi ridere Ma, ma ti sei messo il peluche di Stitch in faccia? Sputz, no capumo Sputz, che cosa Io non ti credo Non ti credo Eh, eh, papara, papara Stitch, guarda qui Papara, papara Papara Io sono una scinietta Papara, papara Roby Dobbiamo qualizzarci Aspetta che ho corso Ma sei un vecchio Riprenditi Così ti riprendi Io ho portato delle cose Dovrai vestirti come ti dico io Sei pronto? Ok Quindi ci uniamo per far ridere Ninna e Matti Sì, esatto Andiamo in missione Dani Roby Non devi far ridere me Dobbiamo qualizzarci Eh vabbè, ci ho provato a farti perdere però È stato molto difficile È arrivato il momento del libro degli iscritti Vediamo chi è il fortunato o la fortunata di oggi Sono due Federico e Nicolò B Un saluto Se anche voi Volete entrare a far parte del nostro libro degli iscritti Iscrivetevi al canale E commentate qui sotto Matti Vuoi vedere un pesce? Sì Che cos'è? È l'unico moto che ho per non ridere Devo ammettere che fa molto ridere questa cosa Dani Dimmi Roby Ma sei sicura che Ninna e Matti rideranno? Sì Guardate ragazzi È veramente un perfetto ballerino Ok Ho un'idea Dimmi Lascia fare a me Anzi No, adesso mi chiamerò Samamba Sono Samamba Guarda qua, sono Samamba Sì Roby, dobbiamo muoverci Ok Volevo far ridere te in realtà Io non perderò mai questa challenge Adrubate No Quella parola non puoi dirla Andiamo, andiamo, ci ho provato Signore e signori Vi abbraccio a Samamba La ballerina che ti manda Ehi Ho visto che stavi per ridere Guarda qua il piedo di Samamba Vai Roby Ora inizia a ballare E one, two, three, four Io non rido Roby Ma come sei vestito? Dai, ma non è valido Io non ho preparato il tuo vestito Ok, lo ammetto, ho riso Mi sa tanto Che hai perso? Questa idea di Samamba Roby È andata a buon fine Brava Dani Samamba ha fatto ridere il primo concorrente Non è giusto però Io non ero pronto a questa cosa Povero Matti Samamba gli ha fatto ridere E ora mi ha fatto arrabbiare Ragazzi Non ci crederete mai Ma abbiamo aperto un nuovissimo canale Io e Dani Si chiama Dani e Roby Reaction Il link è in descrizione E nel primo commento pinnato Potreste essere tra i primi ad iscrivervi Correte Nina è troppo forte in questa challenge Quindi ho pensato a qualcosa di difficilissimo E a cui sicuramente cascherà Cascherà Dani Tipo così Eh? È riso? Ma la vuoi smettere Roby? Dobbiamo vincere Questo è una challenge di Dani e Roby No, no È una challenge tutti contro tutti Dani ricordalo Quindi ecco ti due il bifino del tuo naso Smettila Ci sono Volete vedere una cosa? Eh ci sono solo io Ma ok Il pesce Poi puoi farla a Dani Non a me? Non a me? Oh cacchio No Il pesce no Il pesce no Matti sta Sta ridendo perché ha già perso Si Ma mi ha fatto ridere anche prima Altra politica Dai Ho un'idea Per non ridere al pesce di Ninna Farò anche io il pesce Sono Samantha Il pesce che si vanta Oh Sono il pesce Oh Sono il pesce Dani Non puoi ridere assolutamente È davvero difficile questa challenge Ma secondo voi Chi è il più forte? Ho preparato una trappola per Ninna Vediamo se ci casca Ninna Dato che non ridi mai in questa challenge Devo farti leggere una cosa importantissima Allora Leggimi queste qui Casa Banana Gennaro E ora Leggi questa A trattino A trattino A trattino A trattino Robby Non c'è cascata Io pensavo che dopo che leggeva questa frase faceva la risata Non è servito A niente Tecnicamente a trattino a trattino a trattino è una risata Di un robot ma è comunque una risata Quindi forse ha perso Hai ragione Quindi Ha perso Ninna Tu hai letto la frase che io ti ho scritto Quindi hai perso Anche se Onestamente non mi sembra la faccia di uno che è felice che sta ridendo Uffa Dani Ho un'altra idea Vieni qua che te la spiego Ciao Vediamo anche la cena Quando è scritto La tua video Andiamo Sì Robby È una super ideona Facciamolo Andiamo Dani Vai Samantha Ciao Io sono Samantha Hai visto quanto è carina Samantha Dai ma fa ridere Stavo ridendo io No 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 Rotolo via Uffa Samantha non sta facendo più ridere nessuno Come faccio a far ridere Dani e Ninna È assurdo Non posso perdere questa sfida Assolutamente Robby Robby Che c'è Rinna Ho fatto una cosa Cosa ho fatto? La cacca Come ho fatto la cacca? Nooo Ma sulla cacca non vale Iuhu Ho vinto Dai Non fare così la triste Io lo so che stava ridendo dentro lei Ma ho usato la cacca finta Matti Matti ho bisogno del tuo aiuto Robby ha perso Sei davvero scarsissimo Robby Tu sei fidanzato con Ninna Eh sì Quindi mi sai suggerire qualcosa che le faccia ridere Forse ho ciò che fa per te Davvero? Allora vallo a prendere Vallo a prendere Chissà cosa avrà in mente Matti Questo ho in mente Scusami Matti ma degli auricolari fanno ridere Ninna Esatto No cioè no Non sono gli auricolari che fanno ridere Ninna Ne dovrai mettere uno nel tuo orecchio In questo modo ci possiamo parlare E io potrò comandarti a distanza Quindi come fanno tipo le spie Esatto Facciamo una prova Dani mi senti? Sì Matti Ti ricevo Ok Dani Adesso vai da Ninna E raccontagli che Una volta mentre eri a scuola E stavi facendo la verifica Hai fatto una scorreggia E ti hanno sentito tutti Ninna Devo dirti una cosa Lo sai che un giorno Sono andata a scuola E mentre facevamo una verifica Ho fatto una scorreggia Che schifo Ah Che noia Non è funzionato No credevo funzionasse A lei fanno ridere le scorreggie Aspetta Usiamo Usiamo comunque la scuola Perché le battute sulla scuola Fanno ridere a Ninna Dili che una volta Sei andata a scuola Con due scarpe diverse Una rossa e una blu Ninna Lo sai che un giorno a scuola Sono andata Con una scarpa rossa E una blu Torno subito Matti Le tue idee Non hanno funzionato Credevo facesse ridere Non la conosci proprio Ninna Adesso ci penso io Io ci ho provato Mi dispiace Guarda e impara Ninna Questa sfida Sta durando troppo Quindi Ho in mente Di fare Una sfida finale Tra me e te Sarà una sfida A smorfie Ovviamente L'ultimo che ride Vince la challenge Sei pronta? Guarda qui Che nasino Carino Che ho Il mio più bello Allora proverò Con questo Guarda che Desi Che ho La state sentendo? Questo vuol dire che Ho vinto la challenge Ho vinto la challenge Ninna Facevi troppo ridere Ma la prossima volta Sarò più brava E mi impegnerò ancora di più Sarò qui Montagli Bonagli Siamo Finale Con uarda qui Can Arroads